Card numero 4 è dedicata a BigBullyBasic e il suo manager Aver Wippelman, la backstory è fighissima, praticamente questi due tizi terribili sarebbero amici di infanzia, secondo la backstory, e praticamente Harvey sfidava la gente, faceva il gradasso di un tizio più grossi di lui, quando lo stavano per menare lui chiamava BigBully e li menava al posto suo. Una storia molto bella e avvincente che continua ai giorni nostri o almeno ai giorni loro del 1991.